Impressionante, sono dei geni, sono dei geni, attenzione adesso non mi riferisco solamente alla partita, o Napoli in grande difficoltà, mi riferisco ad un'altra cosa. Poi ovviamente analizzeremo anche bene questa partita come lo faccio sempre su questo canale YouTube, però ragazzi qui secondo me non ci sono dubbi a tanti Gasperini, il modo da fare, non sta simpatico, così ragazzi ma parliamo di un'altra cosa. Parliamo del sistema scouting dell'Atalanta, quest'anno ragazzi hanno perso il loro trascinatore, cioè se io chiudo gli occhi e penso agli ultimi anni, no, quest'Atalanta che ha fatto delle cose incredibili, è arrivata in Champions League, cose veramente assurde con mezzi economici veramente veramente limitati, a livello di fatturato molto, cioè una piccola squadra sotto questo punto di vista in confronto alle BIC, ma a livello di scouting hanno lavorato veramente bene. E quest'anno ragazzi, il loro giocatore più forte, il loro trascinatore, anche a livello simbolico, ripeto, se io chiudo gli occhi ragazzi e penso ad un giocatore, veramente, che mi viene subito in mente quando penso a quest'Atalanta degli ultimi anni, è Papu Gomez. E normalmente uno da esterno, no, che dice, vabbè, mamma mia, adesso l'hanno perso, oggi ha giocato titolare contro il Barcellona, non so quanto è finito, poi adesso vado anche a controllare, a guardare, ma comunque, perde un giocatore così, uno direbbe, vabbè, è impossibile trovare un sostituto, impossibile, cioè lascerà un gap assurdo, un buco assurdo, un vuoto assurdo. Oggi Pessina, altro ragazzo giovane, altro ragazzo fino adesso semi conosciuto, certo, ultima stagione in prestito al Hellas, anche lì ragazzi, scouting pazzesco, tutto funzionale, lì ha già, diciamo, un po' capito come funziona questo modo di gioco, ragazzi, perché, diciamo, è un modulo, no, una visione di gioco, un po' simile al Verona. Perciò, ragazzi, acquisti veramente super, super funzionali, questo ragazzo classe 97, ancora molto giovane, adesso, per amor di Dio, non lo voglio paragonare con un Papu Gomez, però ha fatto la differenza, già oggi, già in questa partita, e questo è incredibile, ragazzi, tanti giocatori poi, che io conosco, quando li vedo anche nei nazionali, in altre squadre, non è che fanno così bene, ma quando arrivano all'Atalanta, sono funzionali, sono perfetti, conoscono tutti, conoscono tutto, ad occhi chiusi, come si gioca lì a calcio, perciò, ti facciamo i complimenti, perché il calcio è business, lo sapete, ci sono i sponsor, le aziende, le multinazionali, che pompano una marea di soldi nel calcio, ma questi qui, veramente, con mezzi economici limitati, fanno un calcio al mercato incredibile, super funzionale, lo fanno veramente da anni, secondo me, sotto questo punto di vista, veramente, veramente, tante società possono solo imparare, ragazzi. Adesso andiamo un po' ad analizzare tutta questa partita, ragazzi, in generale, Atalanta, miglior stagione andata, stagione della storia, Champions League, è passato il girone, con quattro punti di distacco, Coppa Italia adesso in finale, se non mi sbaglio, ultimi quattro anni, tre semifinali, perciò, sono arrivati lì, lì in avanti, ovviamente non sono la favorita per vincere il campionato, però sono fra le prime quattro, cinque squadre italiane e hanno fame, si vede, hanno fame, vogliono anche vincere una coppa, vogliono anche vincere un titolo, ripeto, è una società piccola, è una città piccola, ragazzi, perciò merita veramente rispetto, secondo me, come hanno veramente lavorato in maniera super intelligente in questi ultimi anni, ragazzi. Analizziamo un po' questa partita, 1-0 Zapata, ultime settimane un po' in difficoltà, alcuni lo criticavano, non segna più, diciamo, segna poco, ragazzi, ma anche quando segna poco, rimane un elemento super importante per l'Atalanta, proprio per il gioco dell'Atalanta, comunque 1-0, un gol veramente fantastico di Zapata, ragazzi, un tiro veramente super violento, vabbè, fase offensiva, ragazzi, se io vedo un Muriel, che nelle ultime stagioni spesso entrava e andava sempre in doppia cifra, facciano una qualità assurda lì davanti, un punto un po' debole, che io ho trovato in questa Atalanta, dove io pensavo Napoli lo poteva sfruttare ancora di più, il Palomino, Palomino, buon giocatore, buon gioco posizionale, forte nella marcatura, però a campo aperto un po' lento, ragazzi, secondo me un po' lento, poi era anche a Munito, secondo me il Napoli poteva sfruttarlo di più, ragazzi, cioè, non so, portare via più uomini con una maniera intelligente, isolarlo un pochino e poi portarlo forse nell'uno contro uno contro Usimen a campo aperto, secondo me lì potevano fare un po' più male, però Napoli non l'ha sfruttato bene. Poi 2-0 Pessina, abbiamo già parlato di questo ragazzo, Zapata, troppo tempo, Napoli veramente pessimo, linguaggio di corpo, li lasciano tempo, può controllare la palla, colpetto, la può mettere per terra, strano, veramente strano, ma poi quello che abbiamo visto è una combinazione veramente stupenda, ragazzi, una visione di gioco di Zapata veramente stupenda, ripeto, Zapata non lo possiamo giudicare solo per i gol, perché è un elemento veramente molto importante di questa Atalanta, ragazzi, però Pessina, cioè, da lui parte tutto, no, parte l'azione e poi va subito in profondità, fa subito l'inserimento, tanta roba, ragazzi, giocatore che ha veramente unito bene in questa partita il centrocampo e l'attacco, ragazzi, come lo fece anche sempre il grandissimo Papu Gomez, che per me rimane veramente un fuori classe, Napoli nel primo tempo veramente in difficoltà, Napoli dell'odente, mancava anche un po' la grinta, la voglia, non mi è piaciuto, ragazzi, ovviamente la squadra di Gattuso, con un allenatore così, con i controcoglioni, dovrebbe far vedere, secondo me, molto di più in una semifinale, mi aspettavo anche un Dem a centrocampo, mi sarebbe piaciuto, ovviamente Napoli anche con problemi, ragazzi, per esempio un Fabian Ruiz fuori forma, tre settimane in isolamento, però veramente non mi è piaciuto il Napoli, secondo tempo, primi dieci minuti, non sono stati straordinari, però hanno fatto qualcosina in più, cioè una piccola risposta ci è stata, perciò è arrivato anche il gol al minuto 52, un gol un po' dal nulla, hanno iniziato bene il secondo tempo, però non era un gol che io adesso mi aspettavo al mille per cento, Boschka male, male, veramente si perde completamente lozano, ragazzi, poi ancora peggio perché rimane fermo, cioè si perde l'avversario, l'avversario entra in area, tira, parate di gollini e sta fermo, cioè tu ci devi sempre credere, come quelli che fanno sempre gli inserimenti, no? I giocatori a centrocampo che fanno sempre inserimenti, o portano via giocatori, o segnano gol, oppure non serve a nulla, per gli inserimenti li fanno, importante farlo ragazzi, come McKennie alla Juventus fa sempre questi movimenti, dall'altra parte anche il difensore deve fare questi movimenti, no? Anche se probabilmente non ci arrivi, non porta a nulla, però se stai fermo succedono queste cose, perciò male, 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 veramente Boschka, normalmente poi un difensore centrale, perciò un po' deluso da questa situazione, in generale Baccaioco, anche Zilinski, che io stimo tantissimo ragazzi, Zilinski veramente un giocatore straordinario, anche lui sa, diciamo, unire centrocampo, attacco, troppi errori individuali, proprio nelle zone pericolose, Napoli, cosa è successo? Cosa sta succedendo a Napoli? Poi il linguaggio di corpo, ovviamente non mi è piaciuto ragazzi, dopo il gol del Napoli, un paio di minuti di speranza, ma poi complimenti all'Atalanta, perché ha continuato a giocare a calcio, non si sono nascosti, volevano subito segnare il 3-1, e perciò subito una buona reazione dell'Atalanta, però ragazzi con questa regola dei gol fuori casa, mancava un piccolo gol al Napoli, poteva cambiare tutto, e qui ragazzi è stata una situazione, una palla gol clamorosa per Ozyman, che forse, se fosse stata la sua giornata, l'avrebbe anche messa dentro ragazzi. Ah sì, proprio di Demme, che io me lo volevo vedere sul campo, giocatore che stimo molto, però una bella parata del portiere, e poi ragazzi 3-1, ancora una volta a Pissina, Ilicic, sponda a Zapata, usa il fisico, conclusione poi fantastica ragazzi, il cucchiaio, però ripeto, la cosa impressionante è che parte tutto da lui, cioè l'azione parte da lui e non sta fermo, come fanno tanti, tanti fanno partire l'azione e stanno fermi, aspettano che gli altri fanno qualcosa, invece lui, da lui parte l'azione e poi Ilicic la palla, sponda di Zapata e lui va diritto, va diritto, fa subito l'inserimento e questo costa energie, soprattutto se siamo alla fine della partita e nei 99% dei casi porta nulla, tu fai l'inserimento, la palla non arriva, è chiuso, dimarcano, invece lui ci crede, investe queste energie ragazzi fisiche e poi alla fine c'è il merito ragazzi, perché segna il 3-1 e comunque è pazzesco, l'Atalanta ha perso Papu Gomez, però c'è Miranciuk, c'è Pasali, c'è Malinowski, hanno anche qualità in questa posizione, perciò complimenti, facciamo i complimenti veramente all'Atalanta per sistema scouting, per il calcio offensivo bello che stanno giocando negli ultimi anni, questo merita veramente rispetto, invece Napoli oggi non mi è piaciuto, sono un po' deluso ragazzi, mi aspettavo assolutamente qualcosina in più. fatemi sapere la vostra opinione sotto i commenti ragazzi, sempre viva il calcio e ci vediamo presto con un altro video e ragazzi iscrivetevi a Giano Libertà perché domani esce veramente un video bellissimo.